eccoci qui un saluto come state ben ritrovati invito come sempre a commentare numerosi a iscrivervi e lasciare un bel like mi raccomando e provate a vincere la maglia di Raffa Leao autografata che domani assegneremo a chi ha uno di voi che cosa deve fare iscriversi ovviamente al canale youtube seguire su instagram mb maglie qui sotto c'è il link e scaricare da questo link l'app di numero 10 proprio di Raffa Leao parliamo amici perché ne ha parlato Arrigo Sacchi e volevo leggere la vostra Arrigo Sacchi durissimo ce l'ha con Leao lui dice con me non giocherebbe io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona e se non riesci se non nasci con un certo temperamento è difficile acquisirlo Leao avrebbe tanto tantissimo e credo sia assolutamente un bravo ragazzo nel calcio però si gioca in 11 tutti devono correre e avere una posizione sul campo da noi correvano tutti una volta mi chiamò a Lodi a Rigo vedo che fai correre Virdis allora sei bravo 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 allora leggerò i vostri commenti io dico che Leao ha 24 anni ha trascinato già il Milan a vincere uno scudetto lo scorso anno ha fatto doppia cifra di gol e di assist e dico che quest'anno ha iniziato comunque bene ha fatto già assist ha fatto già gol sicuramente può fare di più però mi sembra troppo duro quando dici con me non giocherebbe non è vero lui non allena più oggi e se avesse Leao giocherebbe come è giusto poi chiedere anche un lavoro di sacrificio però poi a certi giocatori deve chiedere un po' meno da quel punto di vista altrimenti rischi di togliere la forza esplosiva che sprigionano quando invece aggrediscono e guardano la porta avversaria negli occhi è vero che a volte è un temperamento che sembra un po' ciondolante si può migliorare su questo si può dire questo ma tutto il resto secondo me è decisamente eccessivo e il fatto è che oggi Leao è un giocatore moderno che tutti vorrebbero avere e Sacchi ormai è un opinionista ecco come giusto che sia però il calcio è molto cambiato rispetto a quando c'era lui e se avesse Leao giocherebbe quindi questa cosa io non credo molto e mi sembra che sia sempre un voler colpire Leao da parte di tanti finché lo fa Cassano vabbè ma se lo fa anche Sacchi avranno magari ragione non lo so dal mio punto di vista decisamente no voglio leggere il vostro l'attacco secondo me è durissimo ed è eccessivo commentate ditemi che ne pensate di questo giocatore che può e deve sicuramente migliorare però ragazzi tanta roba provate a vincere la maglietta qui sotto le cose da fare un abbraccio